La nostra idea, il nostro motto su Belegge Libertas, quindi la libertà con la giustizia e l'altro è stare vicino alla gente, noi ci sentiamo, vogliamo stare in mezzo alla gente, ci sentiamo facenti parte della cittadinanza. Anche ad Arezzo la Polizia di Stato ha festeggiato il suo santo patrono San Michele Arcangelo e ha deciso di celebrare questa ricorrenza nel cuore della città, nella chiesa di Sant'Agostino. La città di Arezzo non è una realtà limite, ma anzi è abbastanza vivibile e che comunque noi stiamo, come tutte le forze dell'ordine, quindi Polizia Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, sempre presenti per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e far sì che non ci siano realtà che possano evolversi in maniera drammatica. Tempo di festeggiamenti, ma ovviamente anche di bilanci. Stiamo incentivando molto l'attività di prevenzione generale e quindi controlli continui, soprattutto nell'area a rischio e parallelamente abbiamo incentivato, i risultati ci sono, il contrasto specifico a fatti specie delittuose con arresti e fermi e misure di prevenzione. Prevalentemente c'è una riduzione dei reati. I reati sono sempre gli stessi, quindi lo spaccio di sostanze superficienti, i furti, però nel contesto generale notiamo una diminuzione. Questo, ripeto, non è un dato che ci debba far esultare e nello stesso tempo che è un dato, è un dato e basta. Quindi finché c'è uno spacciatore in giro noi ci saremo sempre, che staremo sempre lì a contrastare.